Chiedo scusa ai cittadini per il fatto di essere andato un po' fuori dai binari nell'intervento precedente, chiedo scusa al consigliere Bina e a tutti i consiglieri. Non avevo intenzione di fare l'intervento, però visto che siamo in tema io volevo esprimere solidarietà ai cittadini di Via Rezzo che si sono trovati impreparati, non perché qualcuno non li ha avvisati al momento, ma perché c'è un'ignoranza totale nello studio dei progetti, c'è un'incuria e voi sapete benissimo che in questo consiglio di zone da anni che noi ci battiamo per prendere in considerazione seriamente quei progetti, invece cos'è che vediamo? Di fronte a questa emergenza non si cerca di capire meglio il problema e di trovare una soluzione che non sia un palliativo. Giusto due numeri, l'esondazione dell'8 luglio è durata 5 ore in zona Niguarda e l'Aipo ha detto che se tutte le vasche di laminazione a Senago, Paderno, l'entate sul Seveso, Varedo e forse anche a Parco Nord fossero state presenti avrebbero evitato l'esondazione. Ora bene, mercoledì 12 luglio, eravamo col consigliere Indovino alla Commissione Ambiente in Comune, c'è stata una esondazione molto vicina a quella dell'8 luglio, quindi le vasche sarebbero entrate in funzione. Le vasche sapete che per svuotarsi hanno bisogno di due giorni e mezzo, tre. Il 15 luglio noi ci saremmo trovati con quella che è stata il triplo o il quinturo dell'acqua che è arrivata a Niguarda l'8 luglio e non avremmo potuto far nulla, ci saremmo trovati in due condizioni, primo con le vasche quasi inutilizzabili, ma anche se fossero state utilizzabili si sarebbero riempite e noi avremmo avuto una esondazione minimo pari a quella dell'8 luglio. Vogliamo renderci conto che l'Aipo ha sparato dei numeri a caso, ha fatto degli studi precisi, ha partito delle premesse, ma sta proponendo delle soluzioni che non sono razionali, sono dei palliativi. E voglio portare a vostra conoscenza che l'ingegner Mille finalmente l'ha detto in un microfono. Per quanto riguarda la spesa complessiva, voi adesso state dicendo che ci sono 10 milioni da regione, 20 milioni dal comune, 86 milioni dal governo. Ragazzi, non bastano questi soldi. E lo dice l'ingegner Mille. Sapete che io premo da tempo sulla comparazione tra vasca di Paderno e vasca di Senato? Perché quella di Paderno costerebbe 16 milioni di euro e quella di Senato 30? Bene, finalmente l'ingegner Mille ha confessato pubblicamente. I calcoli di Paderno sono sbagliati. Dico queste cose, so benissimo di non potermi prendere nessuna querela, perché è registrato nella commissione ambiente del comune di Milano del 12 novembre 2014. Qui, però, purtroppo, sui giornali, appena dato sul sito del comune, il progetto va avanti delle vasche di laminazione. Nello stesso modo, il problema è questo, che le persone quando non sono direttamente prese dalle sondazioni, quando non hanno la cantina allagata dal fango, che è veramente disarmante, perché trovarsi circondati per un'area di 500 mila metri quadri, qual è quella di Niguarda, non poter tornare a casa, iniziare a circunnavigare perché l'acqua non la puoi evitare. Sono passate persone da vicino casa che erano disperate, con tutto l'ottimismo di questo mondo, con tutto il bene che possono volere ai loro amministratori, di cui si sono fidati, con tutto il bene che possono volere, non hanno potuto niente. Tutto l'ottimismo che poteva essere il profumo della vita, invece l'ottimismo deve essere sì che ci deve essere, ma deve essere un ottimismo razionale, basato sulla misura. Quindi praticamente chi non subisce le sondazioni, si dispiace, dà un attimo di solidarietà, ma finisce lì. Invece il problema più grave è chi la vive da vicino. Chi vive da vicino il problema delle sondazioni, purtroppo io ho constato della rassegnazione. E voi sapete benissimo che dato che da anni che in questo Consiglio di zona cerchiamo di allertare la popolazione, i consiglieri stessi, gli amministratori, su come dovremmo porci di fronte a quello che è il problema delle sondazioni, il problema del sistema idrogeologico, comunque c'è questa sorta di rassegnazione. E comunque l'amministrazione continua a fare orecchie da mercante. Il Bresso, ingresso dove passa il fiume Niguarda, l'ultimo tratto tombinato. Cavolo, non si sapeva che lì c'era un fiume. E' stato permesso di costruire un centro commerciale. Ma ci rendiamo conto? Presidente, lei è di Bresso, lei abita a Bresso. Cioè si rende conto? Lei è presidente di zona nuova. Ha lasciato che è da dieci anni che è presidente di questa zona. Non poteva fermarli. Lei non può far nulla. Non può riparare il marciapiede sotto casa. Non può riparare le buche. Un centro commerciale a Bresso è stato impunemente permesso di costruire. In via Passerini verranno quattro grattacieli. E noi cosa facciamo qui? Sì, 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 ci crogioliamo su queste cose. Che noi tanto non è colpa nostra. Però intanto non mandiamo nessun messaggio all'amministrazione comunale. Nulla. Vogliamo parlare di un altro tema di questo Consiglio di zona che il Movimento 5 Stelle sta appoggiando? La goccia, l'ex aria gasometri. Vogliamo andare a costruire anche lì? Garbogera, pudiga, vi dice qualcosa? Non vi dice niente? Oppure i grattacieli che sono stati costruiti giù a Bosco in città? No, magari secondo voi non vanno ad influire su quello che è il dissesto idrogeologico di una città che è già in ginocchio? Io non voglio infierire. C'era anche il consigliere Parise che aveva accennato... Come sapete sono un ingegnere e anche se è un ordine che non è nato per gli ingegneri con la mia specializzazione, però lavora molto sul territorio. C'è un articolo a firma del professore ingegner Angelo Spena che dice Diversamente saremmo solo al secondo paradosso, l'assicurazione sul regato della prevenzione anche per il territorio. Più che geniale sarebbe alla lettera catastrofico. Ed è qua dove stiamo andando noi. Ci prendiamo il danno per poi appoggiarci un giorno ad un eventuale rimborso ad un'assicurazione. Finisco qui. Grazie.